Eccoci arrivati alla terza giornata di My Favorite Artisan Award 2023 e oggi la categoria premiata è la ceramica. Qui con noi Rosaura Sanna, dell'azienda Gruppo Interno di Rosaura Sanna di Nuoro, che ha appena consegnato un premio speciale alla fortunata passeggera in partenza per Dusseldorf, Amelia Thomas. Rosaura, grazie per essere qui, benvenuta e complimenti per aver vinto questo prestigioso riconoscimento. Rosaura ha realizzato come premio speciale un centrotavola e un vaso. Rosaura, ti chiederei di descriverci il premio. Sì, allora, il premio, come dicevi tu, è una ciotola realizzata in argilla, è un pezzo unico, realizzata con una tecnica a matarello, a lastra, che ricorda la lavorazione del pane carasau, quindi la sottigliezza del pane carasau, la morbidezza, io in più do delle ondulazioni particolari e poi applico una pintadera, cioè quel timbro che si usava nei dolci, nei panni tradizionali della Sardegna e addirittura già dal periodo nuragico. E quindi c'è una sintesi di manualità sarda, storia del pane, storia dell'archeologia sarda, tutta insieme in questa ciotola e anche nel vaso che si sviluppa in altezza. E quindi se io ti chiedessi come mai, cioè proprio perché hai scelto di consegnare questo premio al passeggero. Sì, è praticamente per dargli una sintesi della nostra identità, interpretato in una chiave moderna, in più con un colore che riporta al mare, il nostro splendido mare impareggiabile, che comunque rimane nei cuori degli ospiti della Sardegna e gli fa e riportarselo a casa e ricordarsi così la loro vacanza qui in Sardegna. Direi che ha descritto al meglio la sua opera d'arte, così come la voglio definire. Grazie ancora a Rosaura e complimenti. Grazie, grazie a voi.